ragazzi bentornati in un nuovo video oggi andremo a fare una sfida nella quale andremo ad utilizzare una impostazione particolare di questo joystick ovvero l'impostazione due tasti quindi io mi sono sempre chiesto ma è possibile giocare con due tasti o meglio che cazzo si fa con due tasti come funziona bene oggi lo andremo a scoprire ma lo andremo a scoprire in che modalità lo andremo a scoprire nella modalità draft quindi quante vittorie riesco a fare nella modalità draft con l'impostazione due tasti del joystick per me sarà una marmellata sulla fetta biscottata succederà il macello allora ovviamente se non riesco a fare neanche una vittoria ci dovrà essere una penitenza e questa penitenza per quanto mi riguarda la dovrete scegliere voi nei commenti e la farò nel prossimo video ok nella prossima challenge quindi mi raccomando scrivetemela qui sotto vamos ok andiamo a riscattare il draft vamos crossplay disattivato perché io i bot del cacchio non li voglio assolutamente paghiamo con i dindini sti cacchio non mi interessa prendiamo un bel 4231 che è un modulo con il quale mi trovo bene magari non il top per il draft ma non mi sbatte niente eccolo didier drogba doglish ah drogba con quella mano caliente mi stuzzica ma sapete che io ho mezzo che mi vado a prendere drogba ma io mi prendo didier andiamo ciocci oh bernardo silva lo volevo provare questo bernardo dentro vai mh cattino ti dico avers mataus oh iaya iaya oh iaya ragazzi il draft incredibile per il momento vabbè qua pippo e pluto sti cacchio vai vabbè disandolo se non vale l'altro no cazzo stava walker non l'ho visto ma che cacchio di problemi ho si va di premere eh no no via via veloci veloci we don't have time to waste vaila come il papu questo è illegale che se con due tasti alla fine non è che ci potrò fare molto rush for tanto non lo posso mettere vai ti prendo potete dare un altro cc grazie oh ragazzi mi stanno capitando dei top pat to glory eccolo no dopo regino l'apro non lo posso mettere vieni roby vieni qua dai un bel cdc adesso questa ma posta di marco madonna che schifo vabbè che schifo si è chiuso in una schifezza totale top quelli che ho in panchina la mettiamo stiamo facendo una sega york e jesus stiamo gorosito vabbè ok iniziamo con la prima partita se le vinco tutte boh regalo un po' di sub in live non lo so quante se le vinco tutte regalo tre sub anzi quattro partite e quattro sub mi sto cagando sotto in sta mente impostazioni controller due tasti come potete vedere due tasti cioè di tutto un tasto allora se arriviamo a 100 like prossima la faccio con un tasto vamos allora due tasti praticamente mi dice che posso solo tirare passare e correre veloce e chiamare il giocatore e in difesa posso solo fare scivolata col cerchio tra l'altro io gioco con i tasti normali quindi è lo contrario per me pressing con x basta non posso neanche fare i cross posso fare niente vamos guardate allora posso solo correre e basta cioè non posso fare nient'altro posso solo correre allora sembra tutto normale se è tipo dribbling agile non so quanto c'è no vedete non posso fare il cross no guardate se premo un quadrato non mi fa il cross guardate se premo un cerchio tira giustamente cioè state capendo se premo x non devo neanche direzionarlo io verso l'avversario ci va da solo non posso fare niente roby ah ho fatto volevo fare il tiro di trivello ho fatto un tiro a giro ah non c'è neanche la finta di tiro giustamente ah il deviato godo e ma si gode vamos fine primo tempo siamo in vantaggio non ci interessa di lagare non ce ne frega niente l'importante è portare il pane a casa anche perché non voglio fare la penitenza che direte nei commenti oppure se mi viene in mente beh sapete che vi dico ho la penitenza non vinco neanche una partita nel draft apro il pacchetto più costoso adesso i do it va baci ci cocco va fa moca chiede mo vai vai perché perché la ridà così ma chi cazzo l'ha inventato due tasti tiro passaggio alto passaggio corto io tipo ovviamente da qua non accadrà mai e adesso si sgomba un pallone boom o comunque scivolata e perfetto di volta penso di fare il tè che in realtà non fa la scivolata per ora top e voi direte perché non dire data che ecco perché stavo pensando che per non ma dopo ricco due tasti sono un fenomeno a dribblare pure con due tasti ragazzi è Nuno Mendes ragazzi ma sto fatto della X che lo mando a presenza da solo è impressionante bravo madonna Didier 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 oh so forte pure con due tasti ragazzi ho forte pure con due tasti niente da dire non fucking cap ma che voglio ho fatto ma poi Didier cos'è Maldini Drogba e Maldini ragazzi è Drogba e Maldini Drogba e Maldini Drogba e Maldini Drogba ha il game face di Maldini Drogba ha il game face ma fa stai dicendo è troppo chiaro di carnagione Drogba ha il game face di Maldini non ci sto credendo non sanno fare un cazzo di gioco che è il loro lavoro voglio vomitare voglio vomitare comunque la prima è stata vinta eh prima è stata vinta quindi cambio la penitenza ok se non evinco due su quattro compri il pacchetto più costoso all'interno del negozio dentro con la prossima ok ragazzi adesso dobbiamo iniziare con la seconda partita ricordiamo le regole due tasti solo due tasti per voi se ne ho passato niente per me invece sono passati due giorni perché non sono dovuto partire quindi nada andiamo a mettere due tasti andiamo mi sono già scordato come ha avuto i due tasti molto bene Santa Lucia portami fucking via ok se non sbaglio i cross non ho ancora capito come cacchio si facciano però va bene dai va bene lo stesso vamos Yaya Yaya Torrey eh che do scettino e scialupa al posto del pit Mark Gistrunz no no troppo veloce non corrono aiuto qua mi sa che ci prendiamo un sonoro nella si vabbè fai lo stile coglione fai lo stile fai lo stile sto con due tasti fai lo stile va bene oh vai all'inferno Nuno 3 gol possibile ah non è possibile però dai vai via vai via ma perché la alzi e non vale però ok devo mettere subito il classico non esiste non vale eh perché non vale non vale ormai la sfida è persa apriò il pacchetto però questo non la passa dai oh dai 5 a 0 6 a 0 negli spogliatoi si può ancora fare si può ancora fare e va bene vincilo un altro rimpallo coglione vincilo un altro vincilo vincilo un altro rimpallo vincilo no non faccio un'altra non la riprovo la challenge ho perso ho fatto schifo va bene a me così sarà bravi che cacchio di gioco aaaah era ingiocabile era ingiocabile success bellissimo qual è il pacco più costoso un cento venticinque cazzo di capo un pacchetto ultimate un pacco ultimate signori sto per buttare cento venticinque mila crediti si lo sto per fare si lo voglio fare no devo farlo si ma io ho cento venticinque mila crediti che è duemila e cinquecento fifa points che poi duemila e cinquecento fifa points 25 euro stupacit ormai l'ho detto sono un uomo si fa si apre non ho paura no mercy ciao non work ma ma almeno è uno della promo almeno è uno della promo quanto stai eh ah si aaaah bello bello bellissimo 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 vi saluto lasciate un like campanellina iscrivetevi commentino voglio morire ciao addio non farò mai più video del genere ciao ciao